Grazie Presidente, velocemente ero intervenuto in discussione generale, si tratta di un emendamento che ho firmato come Presidente di Commissione e abbiamo concordato in Commissione insieme alle altre forze politiche, insieme all'assessorato che ringrazio ed è un emendamento che va a delineare e chiarire in relazione al tema del crowdfunding che ovviamente ci sarà poi una disciplina apposita su tutto il sistema del crowdfunding che quindi non è disciplinato soltanto attraverso questo regolamento delle sponsorizzazioni ma ci sarà una norma di rinvio come effettivamente c'è una norma di rinvio ed è l'emendamento insomma è proprio questo quindi un coordinamento tecnico per garantire che questo strumento possa diventare diciamo uno strumento permanente su tutti i settori di Roma Capitale non soltanto sulle sponsorizzazioni. Grazie. Grazie.